Buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori di avermi consentito di prendere la parola in questa circostanza. Mi è stato chiesto di presentarvi alcuni fatti relativi alla falvescenza dorata. Come sappiamo esistono molti dati disponibili e recenti lavori che hanno consentito di progredire sulla conoscenza della malattia, del patogeno e dell'insetto vettore. Quindi nel tempo che ho a mia disposizione non posso entrare in eccessivi dettagli, però vedrete che vi farò rinvio a presentazioni fatte direttamente da membri del comitato scientifico falvescenza dorata del progetto Y-Network. E poi potrete consultare in linea sul banca dati di cui ha parlato Fanny, avrete modo di consultare gli interventi specifici dettagliati per ognuno dei prodotti. Innanzitutto alla falvescenza dorata dobbiamo sapere che si tratta, come per le malattie del legno della vite di prima, si tratta di una relazione complessa fra la vite, la pianta, l'agente infettivo, il fitoplasma e l'insetto vettore o gli insetti vettori. Le interazioni fra queste tre diverse parti della patologia di fatto scateneranno il carattere epidemico della falvescenza dorata che si esprimerà in modo più o meno rapido e con risposte più o meno rapide. Ecco l'aspetto di un campo, di una vigna con viti flavescenti, alcune. I sintomi, rapidamente, vi sono altre presentazioni più dettagliate che troverete appunto nella banca dati e che sono state svolte in occasione di altri convegni scientifici. Quindi avrete modo di consultare ancora una volta in questa banca dati, questo serbatoio di conoscenze come l'abbiamo voluto chiamare. Ora, alcuni sintomi che visivamente non consentono di distinguere solo sulla base di questi sintomi la falvescenza dorata. Non possiamo esserne certi, ma quando riuniamo un certo numero di questi sintomi sarà possibile indirizzare la ricerca verso la falvescenza dorata in laboratorio. Parlo di vitigni rossi, che è più facile evidentemente da reperire la falvescenza su questi vitigni. L'ingiallimento evidentemente rende più difficile la discriminazione rispetto ad altre malattie. Vedete qui tutti colpiti da flavescenza dorata che però esprimono in modo diverso la decolorazione. La decolorazione può essere limitata dalle nervature foliari. Ecco un esempio di decolorazione ben delimitata. Le foglie si arrotolano sulla faccia inferiore e diventano croccanti, cioè si sbricciolano. È interessante, diventano davvero fragili. È una caratteristica molto particolare. Se prendete le foglie in mano, sono foglie ispessite che tendono ad essere molto fragili a sbriciolarsi. Ecco un tralcio flavescente che esprime molto bene i sintomi. Per distinguere questo dall'accartocciamento vedete che le nervature non restano verdi. In caso di accartocciamento invece le nervature restano verdi. Nel caso della flavescenza dorata le nervature, come vedete in questa immagine, sono ancora colorate. Poi infine un altro sintomo importante. Praticamente non abbiamo lignificazione o scarsa ridotta lignificazione dei tralci nel corso della stagione. Ecco una pianta flavescente. Le scolorazioni non sono facili da riconoscere e su tutto l'insieme delle foglie possono esserci dei tralci che presentano assenza di lignificazione e anche perdite fogliari. Invece si vede in modo piuttosto netto l'ispessimento delle foglie e il fatto che si arrotolino e si ripieghino sulla faccia inferiore. Per quanto riguarda la malattia in quanto tale, la flavescenza dorata appartiene alla categoria delle patologie chiamate giallume della vite. Come dicevo prima, visivamente non è possibile distinguere con i semplici sintomi che vi ho appena descritto la flavescenza dal legno nero, ad esempio dal buanoir. L'unico modo di essere certi di poter distinguere la flavescenza è quella di effettuare un'analisi di laboratorio che individuerà con analisi PCR la presenza del fitoplasma della flavescenza dorata stessa. Possono esservi varie espressioni differenziali in base alle varietà ai vitigni, alcuni esprimono molto bene la malattia, altri no. E il portainnesto, le vitis americane non esprimeranno alcun sintomo. Questo naturalmente ha conseguenze sulla gestione della malattia e sul modo di trattarla. Un esempio per queste diverse espressioni su vitigni relativamente comuni, il merlot e il cabernet sauvignon. In studi realizzati qualche anno fa, con infezioni che sono state controllate con le stesse quantità di fitoplasmi, abbiamo visto che per il merlot o per il cabernet sauvignon, dopo diffusione dell'infezione, misurando il tasso dei fitoplasmi presenti nella pianta, il merlot racchiude meno fitoplasmi, quantitativamente parlando, rispetto al cabernet sauvignon. Può esserci anche una differenza di 30 volte fra il merlot e il cabernet sauvignon. Questo si ripercuote sull'espressione sintomatica, già che il merlot esprime poco i sintomi, mentre il cabernet sauvignon le esprime molto di più, molto più nettamente. Non si tratta di sensibilità, ma di espressione dei sintomi. Preciso ancora una volta che il portainnesto non esprime alcun sintomo, è asintomatico. Questo rende davvero difficile gestire il trattamento e gestire la malattia in generale. Vi è un insetto principale, un insetto vettore principale, che è noto perché trasmette il fitoplasma da una pianta all'altra. Entreremo qui effettivamente in una fase un po' più complessa. Sappiamo che sussistono diversi vettori in grado di trasmettere il fitoplasma della flavescenza dorata, e ve ne parlerò più nel dettaglio. Però da una pianta all'altra, per il momento, c'è un insetto vettore molto dominante, che è noto per la sua capacità, ed è un cicadellide che si chiama Scaffoideus titanus. Qui vi presento l'immagine scattata da un collega della Fondazione Edmund Mack. Vedete che questo insetto adulto, in ingrandimento, è piuttosto facile da riconoscere. Ha due punte all'estremità delle ali, invece, quando lo vedete nella natura, diciamo, la sua dimensione, la sua vivacità, la sua capacità di saltare da una pianta all'altra, rendono molto difficile riconoscerlo da altri tipi di cicadellidi. Questo insetto vettore, che salta appunto da una pianta all'altra, è un insetto che si nutre nei vasi della vite, nel floema, è un insetto che sugge, e quindi è possibile prendere la linfa nell'oxilema. Sappiamo che il maschio e la femmina non si comportano nello stesso modo da questo punto di vista, e recentemente alcuni ricercatori hanno detto che forse lo Scaffoideus titanus sarebbe un vettore potenziale del batterio. La xylella è una specie, fra l'altro, che presenta una sola generazione per anno, una specie monovoltina, come si suol dire, e che realizza un ciclo sulla vite, quindi depone le uova sulla vite, le schiuse avvengono sulla vite, e tutti gli stadi larvali, cinque stadi larvali successivi avvengono sulla pianta, e lo stadio adulto continua a sopravvivere, a nutrirsi sulla vite dove si riproduce. E poi, per finire, i diversi stadi larvali possono essere osservati sulla pianta, in particolare nella parte inferiore delle foglie, ed è uno dei mezzi di controllare i livelli di popolamento di questo insetto vettore. Questa cartina è un po' vecchia, ma comunque ci permette di capire quali siano i limiti nord-sud di sviluppo della malattia, ma praticamente tutti i vigneti europei sono toccati dalla diffusione dello Scaffoideus titanus come insetto vettore. Sappiamo che in sede di inverno caldo la cicalina non è in grado di assicurare una buona riproduzione, mentre quando le estati sono corte, è lo stesso discorso, il ciclo non può completarsi. Non torno sul dettaglio del ciclo vitale di questo cicadellide, comunque ogni stadio larvale rappresenta e si sviluppa per una durata di circa 10 giorni, il che significa che quando cerchiamo di applicare trattamenti o strategie, è sempre interessante cercare di puntare sulla larva, questo ha una incidenza in termini di utilizzo di strategia dei trattamenti nel corso del tempo. Bisogna sorvegliare le schiuse per poter sorvegliare il trattamento e effettuarlo quando abbiamo un maggior numero di individui già schiusi, altrimenti il trattamento non ha senso, non è meno efficace, però non devono neanche essere già in fase adulta, perché a quel punto i trattamenti risulterebbero meno efficaci rispetto alle larve. L'agente infettivo, il fitoplasma, è un batterio senza parete, un organismo di quarantena. Come si trasmette questo fitoplasma tramite il cicalina? La cicalina, eccola qua, una sezione, si sta nutriendo su una foglia di vite, si nutre nel floema dove si sviluppa il fitoplasma, ingerisce il fitoplasma, non è solo per aspirazione e suzione con fissazione nelle parti orali, diciamo. Il fitoplasma passa nel tratto digerente, si moltiplica nell'intestino, supera la barriera intestinale, si moltiplica nell'emolinfa e poi raggiunge le ghiandole salivari dove si rimoltiplica ancora di più. Quindi il fitoplasma è in grado di moltiplicarsi e capite anche che una volta che il fitoplasma è stato ingerito dalla cicalina in stadio larvale o adulto, questa cicalina resta infettiva, è infettiva per tutto il resto della sua vita, invece non c'è trasmissione di fitoplasma alle uova e questo è un fenomeno importantissimo. Significa che questo insetto fa un unico ciclo all'anno come abbiamo visto, ma una volta che la popolazione è scomparsa alla fine dell'anno, passa l'inverno sotto i tralci della vite, non può essere quindi raggiunto dai prodotti di trattamento, ma non è in grado di raggiungere le uova perché le uova sono sprovviste di fitoplasma. Quindi ogni anno questi insetti cicadelici si reinfettano dopo schiusa sulle piante che sono rimaste in vigneto e questo è interessante per la gestione e il controllo della malattia. Un'analisi dei rischi è stata recentemente condotta dall'EFSA. Vi invito a consultare eventualmente questo studio interessantissimo, in particolare questa cartina, che permette di capire anche le prospettive di diversi scenari di gestione della malattia. Non ho il tempo di parlarvi, nello scafoideos titanus il vettore è una cicalina relativamente diffusa in Europa, praticamente in tutti i vigneti europei, ma il fitoplasma invece, la flavescenza dorata, il fitoplasma è meno diffuso dell'insetto vettore, quindi l'insetto vettore non è un fattore limitante dello sviluppo della malattia in Europa. Vi ho parlato prima della PCR, che è il metodo di riferimento, il gold standard oggi. Ci sono diversi genotipi di fitoplasma che sono stati individuati, interessanti per cercare di capire l'origine delle epidemie e di ripercorrere le varie fasi dell'epidemia della patologia nei diversi vigneti europei. Inoltre questo si ripercuote sulla gestione degli insetti vettori alternativi. Quali sono questi insetti vettori alternativi? Non entro in dettaglio perché Silvì Malambic ha già trattato questo tema in occasione dell'incontro di Conegliano, quindi eventualmente andate a leggervi questo intervento piuttosto completo sulla banca dati di cui vi abbiamo parlato prima. Non sono vettori che saltano però da una pianta ad un'altra. Il fitoplasma è presente in piante come la clematide o altre, in cui possiamo trovare tassi relativamente alti e elevati della presenza di fitoplasma. Gli ultimi studi ad esempio in diversi paesi europei hanno permesso di dire che le clematide spesso erano infettate fino al 30% degli individui e quindi sono portatori di fitoplasma, vari tipi di fitoplasma, come per esempio il giallume del palatinato, e sono in grado di trasferire il fitoplasma da una pianta esterna al vigneto e che non sono viti, insomma, verso la vite. Quindi la questione è sapere quale sia la frequenza di questo trasferimento dalla parte selvatica alla vite e sapere se lo scafoideostitanus è in grado di trasmettere diversi fitoplasmi una volta che vengono trasmessi in vigneto e quindi di ritrasferirli da una vite all'altra. Sono lavori in corso presso il laboratorio di Silvima Lambic. In un'altra circostanza abbiamo ascoltato un intervento di Mauro Germini, sempre su questo punto. Alcune piante selvatiche costituiscono un serbatoio per i fitoplasmi, non posso dilungarmi su questo, esistono moltissimi lavori a riguardo. Questo per dirvi che le viti selvatiche o inselvatichite sono dei serbatoi infettivi per il fitoplasma e quindi è importante gestire questi serbatoi. Le piante non esprimono la malattia se non sono viti svinifera. Le viti abbandonate spesso sono viti svinifera e possono permettere un rilevamento della malattia. Una scheda è stata realizzata da Maurizio proprio su questo tema. Ancora una volta vi invito ad andare a leggere sul Knowledge Reservoir. Il fitoplasma della flavescenza dorata era probabilmente presente in Europa già prima dell'arrivo di Scafoideus titanus che è stato introdotto dal Nord America. È stato importato con delle piante che erano state importate per combattere la filossera dagli Stati Uniti. A quel punto si è scatenata l'epidemia una congiunzione diciamo di vettore principale e di fitoplasma è avvenuto proprio in quella circostanza. Anche qui non ho tempo di dilungarmi ma credo abbiate ben capito il meccanismo d'azione. Ora la domanda è detto questo è possibile controllare il fitoplasma? Non c'è modo di guarire la vite se non con un trattamento con l'acqua calda del piede della pianta madre. Abbiamo però alcune diciamo idee, alcuni suggerimenti per un controllo della malattia. Il primo punto al quale pensiamo è la lotta contro il vettore resa obbligatoria del resto della normativa e che viene effettuata in tutti i paesi europei. Vorrei un attimo soffermarmi sul caso della viticoltura biologica. In un recente studio che abbiamo potuto realizzare in Francia abbiamo dimostrato che usando piretro naturale che è consentito in agricoltura biologica a prescindere dalla strategia prescelta un trattamento, due trattamenti o tre trattamenti successivi applicati alle larve vi è sempre un'enorme variabilità dell'efficacia del piretro naturale. Stesso in media ci attestiamo sul 60% dell'efficacia ma in realtà se andiamo a ben vedere l'efficacia varia molto da un sito all'altro da un anno all'altro e anche all'interno dello stesso sito possono esserci gradi di efficacia molto diversi quindi un controllo della popolazione post trattamento si rivela estremamente importante. cosa possiamo trarre da questo studio? I trattamenti precoci sulle larve sono più efficaci rispetto al trattamento effettuato sull'adulto bisogna privilegiare questo trattamento precoce e due trattamenti successivi sono preferibili a un unico trattamento perché davvero l'efficacia in quel caso è non controllabile è troppo variabile poi abbiamo il trattamento della vigna della 45 minuti a una temperatura di barbatella in acqua calda diciamo 45 minuti a 50 gradi questo è il trattamento previsto della barbatella un controllo biologico con altri parassiti parassitoidi di fatto catturati nei vigneti europei o nella regione di origine dello scafoideus nell'Europa del Nord abbiamo visto che questi parassitoidi hanno una qualche efficacia e che agiscono sulle larve dello scafoideus tuttavia il tasso di parassitismo è troppo basso troppo scarso e la difficoltà di allevare queste specie il numero di individui che servirebbero e che bisognerebbe liberare nel vigneto per avere un aumento sufficiente di popolazione per gestire le popolazioni di scafoideus non consentono di fatto di contemplare questa soluzione a livello di campo un'altra possibilità è la lotta tramite confusione sessuale usando un segnale vibratorio perché le cicaline comunicano solo tramite segnali vibrazionali e non con altri sistemi come altri insetti anche in questo caso vi rinvio ad un intervento una pubblicazione molto interessante che è stata fatta da Valérie Mazzoni Eger Conegliano e vi invito ad andare a leggerla sul serbatoio delle conoscenze di qui sopra degli inibitori molecolari permetterebbero di inibire il passaggio del fitoplasma dal tratto intestinale verso l'interno dell'insetto della cicalina stessa e poi tecniche classiche di push-pull che però pongono alcune problematiche se la cicalina viene cacciata dalla parcella rischia di andare ad insediarsi altrove a quel punto è ancora più difficile eliminarla perché bisognerebbe effettivamente agire anche su altri terreni e poi c'è il sostegno di nuove tecnologie in particolare l'impiego di droni o la modellizzazione per il momento queste tecniche beh la modellizzazione è utilizzata in Svizzera ad esempio nel knowledge reservoir avete una presentazione di Mauro Germini sempre realizzata sul tema della modellizzazione che vi dice che di fatto questo sistema è utilizzato in Svizzera per controllare la malattia per i droni se ne parla talmente tanto ormai bisogna sapere che per il momento anche se certe società propongono questa soluzione come soluzione efficace per individuare la flavescenza su certe piante non è di fatto validata dalla scienza per l'individuazione della malattia ci sono studi in corso numerosi e molteplici che effettuano delle misurazioni iperspettrali che permetterebbero non solo di individuare la flavescenza dorata ma anche lo idio la peronospora e altri sono ricerche ancora allo stato embrionale per il momento comunque esistono si sta lavorando su questo quindi da tutti questi fatti possiamo dire che la lotta collettiva e individuale è un pilastro fondamentale un caposaldo del controllo della malattia quando queste cicadelli si schiudevano di fatto abbiamo detto prima erano sane non erano infette ma si infettavano proprio sulla pianta quindi la ricerca delle piante che presentano sintomi è fondamentale se si riesce a privare l'insetto vettore rapidamente della 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 fonte di infezione diciamo anche se ci sono sulla pianta non rappresentano più un pericolo e poi c'è la distruzione delle piante eventualmente malate bisogna distruggerle non c'è altro da fare inoltre c'è la possibilità di ridurre le popolazioni di scafoideus titanus quando sono molto numerose molto abbondanti nelle zone dove si è scatenata una epidemia di flavescenza ci sono popolazioni presenti in quel caso e non se invece non c'è il fitoplasma non c'è alcun interesse a cacciare queste popolazioni e poi favorire o privilegiare l'impiego di materiale vegetale sano di propagazione di moltiplicazione le misure profilatiche complementari qui c'è ancora un punto di domanda per poter implementare questi diversi sistemi di lotta a livello di una regione viticola come la Borgogna avete la possibilità di leggere proprio quanto è stato fatto e di risultati ottenuti nella regione di Borgogna e vi invito ancora una volta a consultare il knowledge reservoir grazie grazie grazie